come ci siamo lasciati l'altra volta ci siamo lasciati che questa pienezza di vita a cui ognuno di noi è chiamato secondo l'ideale di genesi 1 ci siamo accorti che non è così facile raggiungerlo è tutto molto bello ma non è così facile perché non è facile perché ci siamo confrontati con due grossi nemici che incidono sulla qualità delle nostre decisioni e fanno sì che le nostre decisioni siano un po' mediocri non siano in sintonia con la nostra vera autenticità e non siano in sintonia con lo spirito di Dio con il vero bene e quali sono questi nemici il quarto incontro ci siamo confrontati con le paure e l'incontro scorso con i cosiddetti affetti disordinati e i piaceri apparenti tra tutti i testi che ci hanno aiutato a riflettere su gli affetti disordinati ci si è lasciati con l'ultimo che era la vicenda del re Davide questo re Davide valoroso, prode, come si può dire fedele alla sua relazione con Dio di fatto si fa prendere dal desiderio di Bersabea, non sa gestire le sue pulsioni, i suoi desideri e diventa poi un assassino di uno dei suoi colonnelli più fedele, diventa il peggio del peggio lui che era una persona invece leale, bene allora lo lasciamo in sospeso Davide, lo riprenderemo in questa serata e allora stasera, qual è il percorso di stasera? ci confronteremo su come Dio interagisce nella nostra vita per far sì che malgrado questi due nemici la nostra vita possa essere rilanciata verso quella pienezza a cui siamo chiamati per far questo ci confrontiamo con il primo testo preso dal capitolo 1 di Marco quando si parla del battesimo di Gesù e cerchiamo di capire come mai si dice che siamo al capitolo 1 al versetto 9 ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito di scendere verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento se vi ricordate sul battesimo e su queste parole ce l'avamo già soffermati per parlare di questo amore gratuito senza se e senza ma che plasma Gesù e lo rende capace di vivere in libertà tutto quello che vivrà dopo stasera l'accento lo mettiamo su un altro aspetto e lo mettiamo su questo di aspetto sul fatto che se uno ha un po' di dimestichezza con la Bibbia si accorge che queste stesse parole dove le troviamo? le troviamo al capitolo 41 al capitolo 42 del libro di Isaia allora andiamo a cercare cosa dice il capitolo 42 del libro di Isaia perché evidentemente l'Evangelista Marco alla luce della vicenda di Gesù della sua vita della sua predicazione della sua morte della sua resurrezione quando va a spiegare il battesimo che è il momento in cui il Signore Gesù pubblicamente decide un certo stile un certo modo di essere Messia un certo modo di rivelare Dio ecco che l'Evangelista Marco riconosce nella vita nella morte nella risurrezione di Gesù uno stile che era stato preannunciato dal profeta Isaia al capitolo 42 sapete che è il primo canto del servo di Yahweh che dice così ecco il mio servo che io sostengo il mio eletto di cui mi compiaccio ah interessante perché Marco prende le stesse identiche parole e ci sta dicendo una cosa importante attraverso questo artificio retorico guarda che Gesù sta incarnando quello stile emerso in questa figura misteriosa che è il servo di Yahweh e andiamo a vedere le caratteristiche perché questo è ciò che Gesù ha cercato di rivelare attraverso la sua vita ho posto il mio spirito su di lui egli porterà il diritto alle nazioni non griderà ne alzerà il tono non farà udire in piazza la sua voce ascoltate non spezzerà una canna incrinata non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta sono immagini molto belli sono immagini molto belle che cosa che immagini che cosa vi trasmette a voi questo modo di esprimersi in modo così con queste immagini questo personaggio nel quale io mi sono compiaciuto non spezzerà una canna incrinata e non spegnerà una fiamma che si sta spegnendo che cosa vi trasmette a voi voi non sentite a casa poi ve lo dico io a voce eh mitezza dolcezza aiuto dei più deboli misericordia tutto questo è di più è un'immagine bellissima questa panna questa canna incrinata su dai dai che ce la facciamo dai che ti ritroviamo dai che si ricomincia questa fiamma fumigante dai dai che riprendi dai che riprendi a tu che quando hai scelto l'università hai preso una scelta mediocre perché sei stato condizionato dalle aspettative dei tuoi genitori a te a te che hai sbagliato le decisioni perché ti sei fatto fregare dalle paure a te che non hai voluto sposarti perché hai avuto paura a te che ti sei messa in un matrimonio che non stava né in cielo né in terra a te che hai abortito a te che hai sbagliato a te che ti sei fatta prendere dalle dipendenze a te che hai inseguito i piaceri apparenti a te che ti sei complicato la vita e te la sei mediocrezzata a te io ti dico su dai ricominciamo non è finita qui anzi ripartiamo da qua ma ho sbagliato qua ho sbagliato là ho fatto la scuola sbagliata sto facendo un lavoro sbagliato sono in una relazione sbagliata ho abortito ho tradito su ricominciamo questo è Dio che sa che la nostra vita è stata condizionata dalle paure e dagli affetti disordinati non spegnerà una fiamma fumigante non spezzerà una canna inclinata anzi poi va avanti e dice perché tu apra gli occhi e i ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri dalla reclusione che coloro che abitano nelle tenebre e quindi un procedere di Dio che va nella linea del liberare dalla carcere dalle tenebre un'esperienza di liberazione liberazione dalle mie criteri che come dicevamo rispetto agli affetti disordinati magari ho assunto criteri assolutizzando valori relativi o piacere apparenti che mi hanno mi hanno obnubilato mi hanno fatto prendere scelte mediocri superficiali improvvisate a caso in balia degli stati d'animo delle emozioni delle voglie delle paure ecco il mio servo in cui mi sono compiaciuto farà sì che le persone avranno luce le libererà dal carcere questo è l'azione di Dio per rilanciare la nostra vita e lo facciamo riflettendo su alcuni passi scelti potremmo sceglierne molti di più scegliamo questo mi piace molto questo uno dei primi miracoli di Gesù nel Vangelo di Marco siamo al capitolo al capitolo 1 di Marco versetto 40 dice così venne da lui un lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi purificarmi fermiamoci un attimo e ragioniamo intanto ragioniamo ragioniamo sulla lebra voi sapete che la lebra è una malattia particolare perché perché tu sei vivo ma una parte della tua carne è in putrefazione come quando si è morti quindi anche puzza da morto quindi tu sei vivo ma sei un po' morto allora attenzione perché dice qualcosa anche la nostra vita allora forse il Vangelo non ci sta dicendo solo quel lebroso là di duemila anni fa che ha incontrato il Signore perché se ci riflettiamo bene forse potremmo riconoscere che anche nella nostra vita c'è qualche pezzo lebroso cioè in putrefazione cioè c'è un aspetto della tua vita che non stai vivendo appieno che siano le relazioni che sia l'amore che sia l'affettività che sia le tue qualità che siano i tuoi talenti perché imbrigliato in scelte mediocri la parte migliore di te magari non è non è vissuta al meglio oppure c'è tanta gente che come si può dire vive tanti ambiti in modo pieno della propria vita quindi molto bene però magari altri ambiti sono trascurati per esempio chi vive il lavoro facendo una bella professione che è bello contento ma gli prende l'85% del tempo delle energie da una parte benissimo dall'altra parte però c'è una parte della tua vita che è un po' che è un po' in putrefazione potrebbe essere il servizio la dimensione del servizio agli altri potrebbe essere la meditazione potrebbe essere lo svago potrebbe essere lo sport potrebbe essere la famiglia potrebbero essere le relazioni o viceversa cioè verificarsi e anche nel tempo di silenzio che avremo a casa ma c'è quale parte della mia vita mi sembra che non la sto vivendo appieno allora capiamo che la lebra non è solo qualcosa sono vivo ma c'è una parte di me che è un po' morta ognuno ha le sue aspetta un attimo allora perché questo brano sta parlando di me che ha motivo abbiamo detto delle paure e degli affetti disordinati qualcosa abbiamo sbagliato qualcosa non ci ha fatto vivere in pienezza qualche ambito della vita qualche aspetto interessante allora andiamo a vedere come questo lebroso si pone con Gesù e come Gesù si pone con questo lebroso perché così come si pone con questo lebroso si pone con noi per quello ci interessa meditare su quello che Gesù ha fatto duemila anni fa perché attraverso quello che meditiamo oggi ciò avviene con noi oggi per questo ci interessa e dice così e vi vorrei chiedere lo supplicava in ginocchio e gli disse se vuoi puoi purificarmi che modo di chiedere è questa cosa qua se vuoi puoi purificarmi come lo intendereste questo modo di esprimersi poteva diglielo in tanti modi invece esordisce così se vuoi puoi purificarmi cosa vi trasmette questo modo di di domandare cosa c'è sotto secondo voi cosa cosa trasmette no mica tanto affidamento perché dice se vuoi autorevolezza dubbio dubbio se vuoi no può può però sei pover ti prego guariscimi tu che puoi guariscimi esordisce se vuoi cosa vuol dire dubbio incertezza cosa dicevamo lì arroganza dell'ebroso un peccato dentro non dice niente perché superficialità se vuoi una sfida e perché una sfida vediamo se è vero è in questa direzione se vuoi puoi guarirmi sotto sotto cosa sta dicendo quest'uomo qua ma a te davvero interessa la mia vita ma a te ti interessa per davvero hai a cuore la mia vita sotto sotto c'è un dubbio ma a qualcuno gli frega di me qualcuno si dà pena per la mia pena qualcuno ha cuore che la mia vita è mezza morta se vuoi è una sfida una sfida di chi 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 vuol provocare ma davvero ti interessa davvero è a cuore la mia vita cosa dice come va avanti si dice il signore ne ebbe compassione tese la mano lo toccò e le disse lo voglio sii purificato interessante voi sapete che vigiva al tempo di Gesù la legge di Mosè che imponeva ai lebrosi di stare alla larga da tutti girando con un campanello affinché uno che non si era accorto che sei lebroso sente il campanello e sta alla larga e a nessuno di toccare un lebroso perché si sarebbe macchiato diciamo così sarebbe diventato impuro lui stesso allora come vive un lebroso al tempo di Gesù che abbiamo detto un aspetto della tua vita non funziona una vita un po' emarginata una vita che sta un po' al margine appunto delle relazioni della società che ti impedisce anche di interagire in modo intraprendente creativo generativo nella società ma se sono queste le caratteristiche ma quante persone quante persone vivono così ai margini incapaci di interagire positivamente creativamente generativamente nella società ma quanti ah ma aspetta un attimo allora ma quindi alcune caratteristiche di questo lebroso ce le ho anch'io e siccome ci stiamo dicendo che ciò avviene a motivo delle tue paure e dei tuoi affetti disordinati e ci troviamo a vivere vite in cui non viviamo al meglio le nostre potenzialità le nostre qualità in cui alla fine ci costruiamo il nostro orticello con le nostre sicurezze la nostra casa il nostro salotto la nostra televisione la nostra villa al mare i nostri hobby punto allora questo su questa vita interagisce il Signore che ha come scopo liberare rialzare la la canna incrinata soffiare sulla fiamma perché riprenda ardore dice ebbe compassione a Dio dispiace le nostre fatiche Dio soffre perché la nostra vita non è in pienezza non è contento che facciamo fatica e soffriamo non è contento che ha motivo dalle nostre scelte viviamo vite più o meno a caso più o meno superficiali più o meno facendo scelte non di qualità si commuove e cosa si dice lo tocca fisicamente entra in relazione io ho presente a Genova che lavoravamo con i senza fissa dimora una dinamica tipica di quando un senza fissa dimora chiede le lemosina lungo la strada o dorme sotto i porticati e chiede siccome stando anche sulla strada non sono proprio pulitissimi a un certo punto sono disordinati anche se sento odore che la gente anche che fa la carità o quando si accorge che sta parlando e vede che prende le distanze la prende larga oppure a distanza gli lascia la carità ecco il signore entra dire che lo tocca vuol dire tante cose interagire con la tua vita vuol dire un signore che è libero anche dalle regole dalla religiosità se ciò impedisce il vero amore c'è una religiosità che può diventare un impedimento all'amore e alla carità c'è un legalismo di cui Papa Francesco continuamente denuncia anche nella chiesa che diventa un impedimento alla misericordia all'amore alla carità ecco il signore entra in contatto lo voglio si purificato questo guarisce si dice nel Vangelo e viene viene riabilitato a entrare nella comunità nella società e finalmente tirare fuori il meglio di sé ma si dice nel Vangelo che io ve lo dico che così facciamo prima ma quello si allontanò e si mise a proclamare divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano da lui da ogni parte interessante perché a Gesù non è gratis salvare la vita di questa persona non è un di più come quando io faccio l'offerta e vabbè è un di più ma non mi cambia niente la vita cioè voler bene a questa persona Gesù gli costa la sua vita perché come si può dire come se tra virgolette la maledizione che pesava sul lebroso che non poteva entrare nella società a motivo della lebra si sia trasferita su di lui cioè ha preso su di lui il male di questa persona finché questa persona vivesse ma lui intanto se l'è se l'è la vita di Gesù qua ha preso su di sé i nostri peccati affinché il nostro peccato lo pagasse lui e noi potessimo essere liberati e non schiacciati dai nostri peccati tutta la vita di Gesù sta roba qua bene e poi usiamo un altro brano che mi piace molto tra i tanti possibili prendiamo il capitolo 5 di Giovanni dal versetto 1 e troviamo un altro personaggio che è un po' impedito nel vivere in pienezza la sua vita lo troviamo qua dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme a Gerusalemme presso la porta delle pecore vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà con cinque portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi ciechi zoppi paralitici si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato ci fermiamo un attimo allora sarebbe interessante quando verrete in Terra Santa quando verrete a Gerusalemme chi c'è già stato lo ha già vista questa piscina a cinque portici che per anni e anni gli archeologi si sono si sono si sono chiesti ma com'è questa piscina cinque portici un pentagono come sarà finalmente anni fa con gli scavi saltata fuori questa piscina questa stessa piscina con cinque portici del tempo Gesù è ancora adesso a Gerusalemme bene questa piscina aveva una tradizione ripeto non ci interessa approfondire tutto in queste serate qua ma solo avere degli spunti per per riflettere questa piscina era già per tradizione una piscina le cui acque si pensava fossero miracolose infatti ci sono un sacco di ex foto proprio in gesso in marmo la gamba il ginocchio il piede già a 200 anni prima di Cristo quindi in qualche modo il tempio era un tempio pagano prima prima di Gesù interessante bene ci interessa poco fatto sta che lì questa gente storpi ciechi zoppi che stanno lì perché si dice che quando le acque si muovono in un certo modo il primo che salta dentro guarisce bene lasciamo la lista roba ma ci interroghiamo con questo paralitico che si dice che da 38 anni era era paralitico appunto allora proviamo a entrare nella psiche e e e e e tutta esistenziale di un paralitico che è su un lettuccio per esempio una persona così che è lì da 38 anni secondo voi quale sarà il suo umore quale sarà la sua psiche proviamo a interagire un po' rassegnato io lo dico alta voce perché mi vedono da casa che voi non vi sentono quindi un po' rassegnato rassegnato poi disilluso poi arrabbiato lo dico arrabbiato con chi arrabbiato con la vita e con Dio ma perché proprio me con tutti gli che ci sono in giro perché proprio me quindi arrabbiato disilluso rassegnato poi uno che è paralitico come si può dire avrà grandi desideri avrà una grande progettualità su cosa potrò fare su cosa potrò inventare su cosa potrò costruire no il suo orizzonte sono quei quattro metri lì un po' apatico bene e in qualche modo diciamo che un paralitico più o meno è fermo cioè la vita passa gli anni passano ne ha 38 si dice tanti anni l'esperienza che gli anni passano gli altri vanno avanti e io sono lì gli altri fanno costruiscono si sposano fanno figli cambiano lavoro si laureano e a me sembra di essere sempre lì che la mia vita sia un po' infeconda passano gli anni ma la mia vita rimane un po' sterile ma non solo l'essere arrabbiati disillusi rassegnati produce 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 intraprendenza produce creatività produce coraggio produce i pensieri più intelligenti più belli più creativi più più realizzanti no la dilusione la rabbia il senso di impotenza l'incazzatura e il sentirsi un po' fermi a sua volta diventa un circolo vizioso per cui sei sempre meno fiducioso nella vita sei sempre meno intraprendente quindi sempre più rassegnato sempre più incansato un circolo vizioso non potrà funzionare sta vita ma allora entrando nel cuore e nella psiche di questo paralitico ci accorgiamo che non è solo lui duemila anni fa all'ecosciente testa che qualcosa del genere ce l'abbiamo dentro anche noi ma quanta gente io conosco che non è paralitica fisicamente ma lo è esistenzialmente che vive una vita rassegnata e disillusa che non che si sente infecondo che sente che la vita va avanti e sei sempre lì che cerchi di capire ma qual è la mia strada cosa potrò fare cosa intanto gli anni passano questa vita non è secondo la pienezza di Genesi 1 che ci dicevamo ed è paralizzata non per un accidenti ma motivo di scelte mediocri e sono mediocri perché noi le nostre scelte sono condizionate dalle paure e condizionate dagli affetti disordinati e del piacere apparenti che abbiamo detto l'incontro 4 e l'incontro 5 non viene giù dal cielo è frutto di un certo modo di stare al mondo allora ci stiamo dicendo che Dio attraverso Gesù la sua missione principale è liberare è rilanciare la vita cosa ci sta al mondo diciamo così lo dico male cosa ci sta al mondo a fare Dio Dio sta al mondo per liberare l'uomo affinché l'uomo viva e viva bene e si dice Santerineo gloria di Dio è l'uomo che vive Dio è contento se vivi bene godendo della creazione in spirito di gratuità ridonando quello quello che hai ricevuto in dono con vite capace di relazioni d'amore di comunione creative generative intraprendenti di questo gode Dio e questo attraverso Gesù fa e allora e allora quello che fa con il paralitico alla piscina di Betesda è quello che fa con noi oggi perché ognuno di noi è un po' lebroso è un po' è un po' è un po' paralitico però è interessante perché a differenza di altri miracoli anche che se volete hanno una struttura classica ai miracoli rispetto anche ad altre tradizioni religione il disgraziato che prega chiede la divinità che intercede dice ok vai no questo qua è strano infatti andiamo a vederlo e ci interessa la sua stranezza ci dice qualcosa a noi perché infatti dice così Gesù Gesù vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così gli disse vuoi guarire ma che domanda è a uno a uno che è lì che sta aspettando di mettersi giù tutte le volte che l'acqua si muove ma che domanda è quella di Gesù vuoi guarire quindi è una domanda che sembra ironica ma va emergere qualcosa di questo paralitico il quale risponde così gli rispose il malato signore non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si acida mentre infatti sto per andarvi un altro scende prima di me cosa vi trasmette questa risposta qua a voi come vi risuona vuoi guarire eh vuoi guarire ma io tutte le volte che vorrei andare però poi c'è sempre qualcuno che scende prima di me come la interpretate questa risposta voi si lamenta un po' vittimista desolazione desolazione commiserazione vittimismo commiserazione e rassegnazione ma il vittimismo non porta da nessuna parte vuoi guarire eh fai presto tu a guarire però guarda qua siamo tutti sfortunati perché siamo qua ma io più di tutti tutti stiamo male ma il mio male è più di tutti io soffro più di tutti la vita è difficile per tutti ma per me è di più cos'è questa vittimismo e commiserazione non va da nessuna parte una persona così vuoi guarire eh però io quando vado però gli altri gli altri di più di me io non ce la faccio ciao 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 interessante vuoi guarire non è scontato non è scontato che si voglia guarire nella vita al di là dei guai fisici ma sapete quante volte ma io stesso ma io mi rendo conto che magari qualche mio atteggiamento non è più in linea con quello che sono la mia età il mio ruolo così eppure ti affezioni anche anche al tuo peccato ti puoi affezionare perché vuoi guarire sì vorrei ma i tuoi vizi vuoi guarire sì ma tutto sommato anche no peggio quando guarire vuol dire cambiare la situazione di vita dove quella vita che sto conducendo non mi piace e faccio fatica ma mi fa ancora più fatica la novità cambiare ma sapete quante situazioni che ci sono nelle relazioni tossiche al lavoro in certe situazioni che ti dici ma scusa ma cambia eppure anche cambiare per il meglio a noi la novità ci fa più fatica del negativo che conosco perché io so quando 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 Mosè chiede al suo popolo di uscire dall'Egitto dice ma proprio dobbiamo uscire dall'Egitto no perché se impariamo se ci danno qualche bastonata in meno tutto sommato abbiamo imparato anche a prendersela prendendo un angolo giusto qualche bastonata no ma c'è la libertà sì ma la libertà bisogna iniziare questo camminare al deserto ma guarda due bastonate tutto sommato ce le teniamo incredibile io avevo una collega di lavoro per fare solo un esempio una collega di lavoro che si lamentava perché il titolare oggettivamente la trattava male e si lamentava per anni io avevo la fortuna di girare anche per per varie aziende e gli dico guarda ho trovato un'azienda che cerca un profilo come il tuo proprio come il tuo così 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 ah sì sì però chissà chi troverò come saranno i colleghi come qua come là secondo voi dov'è questa persona qua lì a lamentarsi ci fa paura ci fa paura la novità ci adattiamo di più al male che osare il cambiamento è lo star meglio va bene fatto sta che cosa gli dice il signore il signore gli dice così gli rispose Gesù gli disse alzati prendi la tua barella e cammina gli dice il signore entra in dialogo con questa commiserazione questo vittimismo sì c'è ragione poverino effettivamente a te va peggio che agli altri perché la tua mamma non ti guardava e tutti gli altri hanno almeno un amico tu neanche me non entro in questo dialogo su poche balle alzati e cammina no poverino non ce la faccio la mia mamma i miei amici alzati e cammina poche balle sì e allora quando uno sperimenta se la guarigione è avvenuta non è avvenuta basterà digli guarda che sei guarito perché se uno è guarito quando si accorge sei guarito per davvero oppure no se si alza e cammina perché se tu finché stai sdraiato potresti anche essere guarito ma finché non ti alzi che tu sia guarito o non sei guarito è la stessa cosa perché stai sdraiato o sei seduto invece ti accorgi che sei guarito alzandosi e camminando e potremmo dire che è proprio alzandosi e camminando che generi la guarigione è causa e effetto alzarsi e camminare fidandosi di quella parola che ti dice vai e cammina chi può dirlo questo è il paralitico si alza e va poi tutto il capitolo avanti con altre dinamiche ma a noi ci interessa questo ma allora chi è Dio in Gesù è colui il quale rilancia la vita di ognuno di noi la rimette in moto infonde coraggio consolazione non spezzerà una canna dai che ce la facciamo no non ce la faccio più dai che ce la facciamo no non ce la faccio più dai che ce la facciamo una fiamma smorta ma io ho sbagliato tutto nella vita ecco non preoccuparti a tutti i miracoli di Gesù vanno interpretati in questo modo che non è curare il ginocchio l'udito il cieco perché di curare il mal di ginocchio non interessa niente al Signore Gesù interessa curare la vita è ben di più che curare il difetto fisico o il dolore fisico è rilanciare una vita non è mica solo questione c'ho la gamba rotta ma la giusta perché se tu hai la gamba rotta e te la giusti e non sai cosa fare della tua vita ma non serve a niente che tu abbia la salute anzi tanta gente con la salute si butta giù dal ponte perché perché è mezza disperata non sai cosa fare della vita ma non è questa la guarigione che interessa Gesù la guarigione che interessa Gesù è guarire la vita nella sua nel suo insieme affinché tu stia al mondo da persona libera autentica coraggiosa generosa intraprendente generativa questo interessa che non è la gamba rotta o il mal di pancia bene ci lasciamo con l'ultimo brano e con un'indicazione su come poi per davvero avviene questa roba qua nella mia vita ci siamo lasciati la volta scorsa con questo Davide che per l'appunto oltre a rubare la donna al suo fedele colonnello per salvarsi la faccia perché la messa è incinta e vuole salvarsi la faccia alla fine arriva a far morire lui e altri innocenti per salvare la sua faccia come va avanti questa storia come il signore risana le vite come il signore rilancia le vite e va avanti così eravamo al capitolo 11 del secondo libro di Samuele adesso andiamo al capitolo 12 che va avanti così e dice così il signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse due uomini erano nella stessa città uno ricco e l'altro povero interessante Natan non va da Davide a dire sei veramente uno schifoso hai fatto il peggio che potevi fare pentiti perché sei veramente una merdaccia non lo affronta così anche perché Davide nel loop del dovere salvare la sua faccia è disposto a sacrificare tutto e tutti quindi non funziona inizia con una storiella il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato essere vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli mangiando del suo pane bevendo alla sua coppa e dormendo nel suo seno era per lui come una figlia un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui davide si adirò contro quell'uomo e disse nata per la vita del signore chi ha fatto questo è degno di morte pagherà quattro volte il valore della pecorella per aver fatto una tal cosa e non averla evitata allora nata disse a davide tu sei quell'uomo tu sei quello lì e davide dice ho peccato ho peccato contro dio ma ma qual è la pedagogia di dio qua che raccontandogli la storia su cosa sta facendo leva dio per fargli prendere consapevolezza e mettere in moto un cambiamento della sua vita e tirarlo fuori da questo loop e rilanciare la vita di davide su cosa fa leva con questa storiella esattamente sulle virtù di davide sulla parte buona la parte leale di davide il senso di giustizia che ha davide che ce l'ha che l'ha perso l'ha obnubilato a motivo per l'appunto degli affetti disordinati e piacere apparenti ma ce l'ha e su cosa fa leva dio sul bene sul bello sul buono tira fuori il buono che hai dentro tu non sei solo il tuo peccato tu non sei solo il tuo male e fa leva su quello sul tuo la lealtà di davide il senso di giustizia che ha lo cura tirandolo fuori ripeto non accusando ecco sei una merdaccia adesso veramente farà così farà cosa no ma attraverso facendo leva su questo fa anche sì che davide prenda consapevolezza e anche in qualche modo smetta di difendersi di fronte a tutto a tutti cercando di sistemare tutto quello che può sistemare sì ho sbagliato è colpa mia ho peccato ma quanto è difficile nella vita assumersi le proprie responsabilità e dire ho sbagliato noi io per primo siamo sempre alla ricerca sì però quello là mi diceva non volevo io però è stato lui che mi ha tirato dentro è stata lei che mi ha tentato così no ho sbagliato io sono colpevole è questo che libra nella confessione non il come si può dire versare la colpa sugli altri sulle circostanze ma qua ma là ma su ma giù io c'era quando quando ero in Cile c'era un un presentatore cilene che prendeva in giro una caratteristica dei cileni che parla dei cileni ma secondo me parla degli italiani e certamente anche di me diceva no perché noi cileni non ci prendiamo mai la responsabilità ero a una festa dice sto qua mentre commenta una trasmissione e su al secondo piano si stava bevendo fumando qualcosa uno si appoggia al vaso e cade sotto e il vaso cade sotto cade sulla testa qualcuno cos'è che dice è caduto il vaso ma com'è caduto io l'ho fatto cadere no è successo ma com'è successo è impersonale no io a riconoscere Davide attraverso questa storia succedono due cose a tira fuori il meglio e con quello lo curerà Dio b riconosce il male e facendo così può cambiare può cambiare rotta può rimettersi in strada può ripercorrere quella strada di lealtà di giustizia che lo ha contraddistinto bellissimo il salmo 50 che la tradizione attribuisce a Davide dopo aver parlato con Nanta pietà di me signore contro di te ho peccato e lo fa a tu che mi hai sempre aiutato e te lo posso dire a te Dio perché so che mi vuoi bene so che se anche io ho peccato tu mi vuoi bene ma chi può confidare la parte peggiore di sé il peccato che ha fatto il male che ha fatto a qualcuno di cui non sai se ti vuole veramente bene o se la sua stima nei tuoi confronti dipende se sei in gamba se sei perfetto se sei bravo se sei bello oppure no ma io stesso io mi sento di aprire il mio cuore a chi so che mi vuole bene a prescindere se non sono sicuro che uno mi vuole bene e mi stima a prescindere io non riesco a dirgli ho fatto questa magagna o quest'altra Davide fa questa esperienza con Dio e quindi posso tirarlo fuori e posso essere liberato bene la storia di Davide andrà avanti qualcuno pagherà il prezzo Davide gli dirà tu non morirai perché Dio ti ha liberato dal tuo peccato però morirà il primo figlio certo il male ha delle conseguenze e su questa terra di solito il male del mondo lo portano i piccoli indifesi gli innocenti vedete in Ucraina chi è che sta sotto le bombe donne bambini civili innocenti chi è che patisce la fame mica il leader ma non ci interessa questo in questo momento il punto era il punto era Davide per concludere l'incontro di stasera è questo che Dio libera e rilancia la vita abbiamo visto nei brani che abbiamo commentato ma io vi dico che se qualcuno prendesse sul serio la parola di Dio e per davvero meditassimo sulla parola vi accorgereste che pian pianino come dice la lettera degli ebrei che la parola di Dio è viva ed efficace se la meditassimo per davvero succederebbe che pian pianino noi ci sentiamo lo spirito di Dio che dice è sbagliato tutto ma ricominciamo no ma sto andando vabbè ricominciamo noi ci sentiremmo vuoi guarire noi ci sentiremmo sì lo voglio sì purificato vivi adesso noi pian pianino saremo purificati dalle nostre paure dal nostro peccato dai nostri affetti disordinati noi percepiremmo in noi coraggio fiducia speranza intraprendenza generosità se gli lasciassimo spazio all'azione del spirito santo in noi attraverso la meditazione della sua parola grazie a tutti Grazie a tutti.